Buon pomeriggio e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. In primo piano ferito e trasportato d'urgenza al policlinico dove è attualmente ricoverato in rianimazione. Un grave incidente sul lavoro è accaduto nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 dicembre all'interno dello stabilimento Bosch di Bari. La vittima un operaio di 45 anni. L'uomo stando a quanto appreso sarebbe prima rimasto incastrato con una gamba in un macchinario e poi sarebbe caduto violentamente a terra rimediando altre lesioni. Sulla dinamica dell'incidente ancora poco chiara sono in corso accertamenti sia del personale dello Spesal dell'ASL di Bari sia dei carabinieri di Modugno. I fatti accertati dai militari dopo i rilievi effettuati sul posto sono stati riferiti all'autorità giudiziaria. I sindacati già da ieri hanno indetto due ore di sciopero per tutti e tre i turni in fabbrica. L'operaio prontamente soccorso dai sanitari del 118 è dunque ricoverato al policlinico. Le sue condizioni sono stabili ma la proniosi resta riservata. L'uomo è cosciente e respira in modo autonomo. E cambiamo adesso completamente argomento. 68 nuovi alloggi popolari nel quartiere San Pio. È stata approvata in giunta qualche ora fa il progetto definitivo in linea tecnica ma per la cantierizzazione bisognerà aspettare ancora un po'. Si chiama PINQA, programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare. L'intervento Made in San Pio per un importo di 19 milioni di euro relativo alla realizzazione di un piano di rigenerazione urbana in siteto, il cui progetto definitivo poche ore fa è stato approvato in linea tecnica a Palazzo di Città. L'intervento si prefigge di intervenire sulla condizione di disagio abitativo con la realizzazione di 68 nuove unità da collocare in edifici residenziali di nuova costruzione. Si procederà infatti alla valorizzazione degli spazi pubblici e degli immobili erpi alla loro rivitalizzazione socio-economica con un'area parzialmente edificata posta all'interno del quinto municipio. Parliamo nello specifico nella realizzazione di nuovi alloggi popolari, prevista inoltre la creazione di un sistema pedonale ciclabile delle percorrenze che riconnetterà il quartiere al suo contesto, la sistemazione di zone verdi che caratterizzeranno i percorsi e la riqualificazione degli ambiti sportivi e dei playground esistenti. In programma anche la sistemazione dell'edificio ex CNIPA e dell'Accademia del Cinema. L'area per la realizzazione di un nuovo edificio residenziale si trova nel comparto nord con accesso da via Gregorio Ancona. L'immobile si svilupperà su cinque piani e conterà, dicevamo, 68 appartamenti. Tutti i vuoti urbani saranno caratterizzati dalla presenza di verde e zone pavimentate, spazi di relazione attrezzate con sedute e percorsi ciclabili. Tra le demolizioni è prevista anche quella della struttura dedicata al mercato coperto che attualmente non ospita alcuna funzione. Non è prevista a stretto giro, la canterizzazione dei lavori, fanno sapere da Palazzo di Città, sarà prima necessaria l'acquisizione di pareri e autorizzazioni. E a proposito dei lavori pubblici, ultimi giorni a Bari per l'assessore comunale Giuseppe Galasso, che dal prossimo 1 gennaio comincerà con il suo primo incarico a Foggia. A noi questa mattina lo abbiamo avuto ospite all'interno della nostra trasmissione. Buongiorno Bari, allora sentiamo uno stralcio delle sue parole. Questa di Bari le mancherà? Tantissimo. Rispondo subito, anticipo la risposta a questa domanda secca con una risposta secca, ma faccio subito seguire anche un ringraziamento a voi, a te Serena, a te Roberto, ma a voi telebari che avete tanto accompagnato la nostra attività, spesso con spirito critico, ma devo dire sempre con obbiettività. Roberto ricordava che a volte abbiamo avuto anche delle posizioni differenti, a volte pubbliche, diciamo in trasmissione, a volte anche riservatamente, ma con la vostra completa informazione e la nostra disponibilità, che apprezzo, ha avuto un giudizio positivo da parte vostra, siamo riusciti sempre a dare le notizie, ritengo più giuste, di una complessa attività economica che abbiamo fatto per questa città. Bari mi mancherà tantissimo, mi mancherà perché nove anni e mezzo sono tanti, sono un pezzo di vita, sono un quarto di un cammino professionale di una persona, tutti orientativamente dovremmo avere la fortuna di lavorare per circa 40 anni, qualcuno ahimè non riesce ad averlo anche per la difficoltà di trovare il lavoro, perché magari la sorte, la vita, il Signore gli riserva una vita di lunghezza differente. Dieci anni di questo percorso sono tantissimi, se chiudo gli occhi e penso a com'ero dieci anni fa, a com'era la mia famiglia con un solo figlio piccolo di sei mesi e com'è adesso, mi vengono in brividi. A chi ci ascolta vorrei lanciare un messaggio, è vero che abbiamo fatto tanto, poco, questo lo giudicherete voi, ma quello che è stato programmato, finanziato, progettato e avviato negli ultimi anni o di prossimo avvio, è veramente un'autentica prosecuzione della rivoluzione cominciata dal Sindaco De Caro che ci accompagnerà almeno per i prossimi dieci anni. E i giovani sono i nuovi poveri della società, così Don Franco Lanzolla, parroco della Cattedrale di Bari, che invita gli adulti a costruire relazioni con gli adolescenti. Sentiamo. Don Franco, quali prospettive per i giovani, soprattutto per gli adolescenti in questo momento dove spesso mancano i punti di riferimento? Parliamo della crisi delle istituzioni, della crisi delle famiglie. Io penso che è necessario fare un regalo ai ragazzi. Loro hanno bisogno non di macchine, di computer, di telefonini, ma hanno bisogno di genitori adulti, di uomini e di donne adulte stabili, ma anche capaci di dinamicità, stabili ma anche dinamici, stabili nei valori ma dinamiche nella costruzione, nel tempo e nella storia. I ragazzi oggi hanno bisogno di una comunità di adulti e per questo l'augurio è che i giovani rientrano nei sogni dei grandi e i grandi entrano nel cuore dei piccoli. Dunque riconciliare i giovani con gli adulti. I giovani sono soli con i loro telefonini, stanno con i loro video, con i loro games. I giovani sono soli. I più poveri oggi sono i giovani, che hanno tutte le tecnologie ma non hanno l'umanità. I giovani cercano gli adulti. Don Franco, le nuove povertà. Prima ci diceva che la povertà non è soltanto la povertà economica, ma è una povertà spirituale. Sì, perché i giovani stanno diventando analfabeti, non leggono più un libro, prendono solo tutto copia e incolla da computer. Hanno bisogno non di informazioni dal computer, hanno bisogno di una relazione. hanno bisogno di maestri, non di professori. Perché i giovani possono credere, possono essere credenti, se trovano dei credibili maestri. E per tutti gli aggiornamenti dal nostro sito, telebari.it, ci colleghiamo con Tiziano Tridente. Ciao Tiziano, ben trovato. Sì, eccoci serena in primo piano sul nostro sito. I lavori per il rifacimento dell'asfalto sulla Statale Cento nelle scorse settimane in direzione Bari e a partire da questa mattina in direzione Taranto, con inevitabili disagi alla circolazione, rallentamenti e code già a partire dalla fine di Via Mendola. Il cantiere di giornata è stato allestito all'altezza dello svincolo per Capurso e Trigiano, ma i lavori nelle prossime settimane dovrebbero riguardare tutto il tratto barese della Statale. Cambiamo argomento con l'iniziativa dei dipendenti della Bari Multiservizi, che anche quest'anno, come da tradizione, con il supporto della società, hanno voluto manifestare la propria solidarietà nei confronti delle famiglie più bisognose, sostenute dal Centro Polifunzionale per l'Infanzia e l'Adolescenza del Comune di Bari, attraverso la donazione di oltre mille pacchi di pasta, quasi 900 bottiglie di salsa di pomodoro e 133 pannettoni, con l'augurio di rendere più liete le loro festività natalizie. Ci spostiamo ad Altamura per una brutta storia, fortunatamente letto fine, quella di quattro cagnolini gettati in un pozzo e salvati dai volontari della Lega Nazionale del Cane, Animal Protection, che con il prezioso aiuto dei Vigili del Fuoco hanno intirato su mamma e tre cuccioli, due femmine e un maschio, cancellando così un destino che per loro sembrava segnato. L'associazione quindi a sporto denunce ha lanciato un appello ai cittadini, se avete informazioni utili scriveteci sul nostro sito, la mail di riferimento. A te. Grazie Tiziano, noi andiamo avanti, un murale si è apparso da alcuno in settimane su uno dei silos del porto di Bari, la presenta la storia di San Nicola rivisitata in chiave moderna. Vediamo. Un gruppo di bambini alla festa di San Nicola. Il nuovo murale si è esposto sui 16 silos di 32 metri d'altezza del porto lato mare di Bari, realizzato dall'artista australiano Guido Van Elten. L'opera ancora in corso di completamento è stata presentata nella sede di Bari dell'autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale, alla presenza di tutte le autorità coinvolte. Noi stiamo cercando di dimostrare che l'industria, perché il porto è un luogo industriale, è un porto dell'operosità, è un luogo in cui è il volano dell'economia di un intero territorio, ma l'industria può essere bella. Non è detto che l'industria non sia coniugabile con un gradiente estetico elevato. È in corso la progettazione del parco, del castello che aprirà definitivamente questo rapporto, questo dialogo tra il porto e la città di Bari, in particolare il centro storico. Quest'opera d'arte sui silos dialogherà con un'altra opera d'arte che inizierà tra un po', è l'opera di Tre Soldi. Secondo me è un'opera storica, per me che vivo a Bari, vedere i silos adesso ridipinti sarà qualcosa di straordinario, è un'opera d'arte e io penso che possa essere il benvenuto per tutti i turisti che ci sono e ci saranno. Dallo scorso mese di giugno il celebre artista è impegnato nella realizzazione dell'imponente intervento, lui stesso ha spiegato com'è nata questa ispirazione. In realtà si inizia con la fotografia, dopodiché cerco di scoprire la città attraverso l'utilizzo di questo strumento. In modo molto naturale ho partecipato alla festa di San Nicola. Attraverso questa esperienza di vita ho cercato un'immagine iconografica che potesse diventare parte dello skyline del porto. E andiamo avanti, cambiamo decisamente argomento e torniamo invece sulla maratona notturna in regione per l'approvazione del bilancio, 69 gli emendamenti stralciati. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza con 29 voti favorevoli, 14 contrari e un astenuto il disegno di legge contenente le disposizioni per il bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Una discussione lunga che si è protratta fino a notte anche per la votazione di numerosi emendamenti inseriti nel documento. Tra questi la delega Puglia sviluppo SPA per le funzioni di organismo intermedio di soggetto attuatore per l'attuazione delle politiche regionali di sviluppo finanziate da fondi europei e nazionali. C'è anche un passaggio sulla nuova legge regionale che sostituisce il piano casa laddove sono stati previsti contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici. La misura adottata all'unanimità prevede l'erogazione di contributi in favore dei comuni per la redazione dei piani urbanistici generali del 40% all'adozione dell'atto di indirizzo, del 30% all'adozione del pughe e del 30% all'approvazione. Approvato all'unanimità un emendamento del consigliere Di Gregorio con il quale si assegnano 500 mila euro per il sostegno dei club di serie A di tutti gli sport, mentre sarà di appena 50 mila euro la dotazione richiesta dal consigliere Piccolo per l'acquisto di attrezzature delle associazioni sportive dilettantistiche del calcio. Da sottolineare il provvedimento sollecitato da Pagliaro per l'istituzione del Fondo Europeo per la Pesca come ristoro per i pescatori pugliesi autorizzati al prelievo dei ricci di mare che da maggio scorso sono fermi in osservanza del divieto di pesca triennale. E con l'approvazione in aula del mio emendamento a favore della Fondazione Petruzzelli i giovani studenti delle scuole baresi potranno assistere ad una rappresentazione teatrale sul tema della violenza di genere. A parlare è stato il consigliere della Lega, Fabio Romito dopo l'approvazione del bilancio un approccio culturale didattico ad un tema di grande attualità che potrà quindi essere affrontato in una delle istituzioni culturali più importanti del paese e cioè il Teatro Petruzzelli. Voglio ringraziare, aggiungi Romito, i colleghi consiglieri e l'amico Francesco Paolicelli per aver sostenuto e incrementato la misura da me prevista che spero possa diventare stabile e non occasionale con il lavoro di Massimo Biscardi la Fondazione in buone mani e saprà accogliere le sfide del futuro. E parliamo ora invece di PSR la regione presenta i dati sul sostegno all'agricoltura superato per il secondo anno l'obiettivo di spesa. 234 milioni di euro per pagamenti liberati nel 2023 più di 14 mila richieste per il secondo anno consecutivo la regione Puglia raggiunge e supera l'obiettivo di spesa del programma di sviluppo rurale 2014-2022 permettendo all'organismo pagatore AGEA di erogare gli attesi contributi a migliaia di beneficiari delle misure di sviluppo rurale. Tra le richieste soddisfatte si segnalano tra le altre il sostegno a 496 giovani agricoltori che hanno ricevuto quasi 40 milioni di euro e l'aiuto al comparto dell'allevamento che ha sofferto dalla crisi dell'Ucraina grazie al quale mille allevatori hanno beneficiato di un contributo a fondo perduto pari a 9,7 milioni di euro. L'intervento fondamentale per supportare la competitività del sistema agricolo resta comunque l'aiuto all'investimento delle imprese grazie al quale 2.213 aziende hanno beneficiato di quasi 110 milioni di euro. Il PSR Puglia 2014-2022 si avvia alla fase conclusiva adesso prevista per il dicembre 2025 in fase di chiusura all'avviso pubblico destinato agli agriturismi invece tra le azioni pianificate in questi giorni si segnalano i nuovi bandi per la formazione in agricoltura per un importo di oltre 5 milioni di euro e per la consulenza alle imprese agricole con uno stanziamento di oltre 4 milioni di euro. Nei primi mesi del 2024 sarà anche approvato il nuovo bando destinato agli investimenti per le aziende agricole con uno stanziamento di 50 milioni di euro. E ci spostiamo ora a Cerignola i carabinieri arrestano uno spacciatore incastrato dall'utilizzo di un drone ci dice tutto Nicola Saracino I carabinieri della compagnia di Cerignola hanno eseguito un'ordinanza di una misura cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Foggia su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di un cerignolano Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia e svolte dai carabinieri attraverso servizi di osservazione e l'utilizzo di un drone rientrano nel proseguo dell'operazione chiamata il Volo con la quale lo scorso mese di settembre sono stati eseguiti provvedimenti cautelari a carico di 4 persone accusate del reato di vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti commesso nel centro cittadino di Cerignola La prosecuzione del monitoraggio di questa piazza di spaccio effettuata dai carabinieri con le stesse modalità ha consentito di attestare come in quello stesso luogo l'indagato tra i mesi di ottobre e novembre abbia continuato ad effettuare cessioni al dettaglio di stupefacente Nel corso delle indagini i carabinieri hanno anche rinvenuto presso la casa dell'arrestato 33 grammi di cocaina già suddivisa in dosi E prosegue invece ad Alberobello il ricco programma di iniziative natalizie tra cui il presepe di luce Due mesi di appuntamenti che spaziano dalla musica con artisti locali e non solo fino al prossimo 2 febbraio il We Are in Trulli Christmas Edition il cartellone degli eventi natalizi in corso ad Alberobello Shaman Fest Winter Edition Light Christmas il villaggio di Babbo Natale con le casette gastronomiche i mercatini la pista di ghiaccio sono alcune delle attrazioni che rendono magiche le feste tra i trulli Il Natale 2023 si sta rivelando un momento molto bello per Alberobello le luci stanno ravvivando le piazze le strade ma anche con grande intelligenza e grande bellezza Alberobello è già di per sé un posto bello dove è bello venire a passeggiare a passare del tempo a stare qualche ora ma anche stare qualche giorno però a Natale si riempie di luci e questa sua bellezza quasi spontanea naturale ma anche semplice diventa molto più più bella più interessante ed è questo l'invito che faccio a tutti quelli che potranno farlo di venire a trovarci di venire a vedere quanto è bella di venire a vedere quanto l'abbiamo curata per queste festività di particolare suggestione il presepe di luce giunto alla terza edizione a cura dell'associazione da Betlemme a Gerusalemme con le installazioni luminose a partire dal trullo sovrano passando per il centro e sino all'Aia Piccola con accesso libero fino al 2 febbraio 2024 tutti i giorni dal tramonto all'alba a cui si aggiungerà dal 26 al 29 dicembre il presepe vivente con oltre 200 figuranti e accesso su prenotazione su Bucchizon e infine ci spostiamo in Salento per parlarvi di uno dei più piccoli presepi viventi organizzato da un gruppo di amici ogni anno si rinnova l'antico rito della nascita di Gesù cercando di far tornare indietro nel tempo chi lo visita a Villaggio Boncoro una piccolissima frazione del comune di Nardò nel Salento che conta non più di qualche centinaia di anime residenti 133 per l'esattezza si entra da visitatori si esce da partecipanti con la gioia di aver convissuto un'esperienza piena di passione nel piccolo villaggio di Boncore da settimane si sta preparando il presepe vivente organizzato da un gruppo di amici che si augura di richiamare numerosi visitatori per ammirare i figuranti in costume un vero e proprio laboratorio sociale infatti con vari ruoli sono stati coinvolti tutti gli abitanti del posto ognuno con il proprio sapere da elettricisti a muratori e falegnami come in un film ma in diretta questo presepe nasce da una scommessa fatta da un gruppo di amici proprio all'occasione degli 800 anni del presepe di San Francesco il presepe qui a Boncore non è assolutamente un fatto nuovo ma anzi è sempre stato realizzato tutti gli anni certo non così in grande perché man mano che la notizia si è divulgata sono venuti tutti autonomamente ad abbracciarci e a stringersi intorno a noi a darci forza per poter realizzare questo questo presepe e noi siamo in chiusura e come di consueto vi ricordo i nostri indirizzi internet telebari.it radiobari.net è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito e a più tardi con l'informazione di Telebari Grazie a tutti